Acquedotto quasi ultimato, mancano 800 metri per il completamento della linea di adduzione. Le risposte del sindaco al consigliere Picchierelli. Palazzetto dello sport, lavoro in corso, impegno per terminarlo prima della fine dell'estate. Buonasera, benvenuti come sempre all'appuntamento con TG Magazine, il nostro settimanale d'attualità. Apriamo con il primo argomento che riguarda l'acquedotto. Manca poco ormai per il completamento della linea di adduzione, circa 800 metri. Un lavoro questo che ha visto impegnata l'amministrazione sin dai tempi del suo primo mandato, ma ormai questo lavoro sembra proprio essere quasi terminato. Vediamo il servizio. Mancano 800 metri per il completamento della linea d'adduzione dell'acquedotto ortano. Il tratto interessato dai lavori riguarda il collegamento tra la zona di Fontana Antica, posta a Bagnolo, ed il Pompio, luogo che si trova alle spalle del colle di San Bernardino. I lavori, giunti ormai quasi al termine per una lunghezza complessiva di 4 chilometri, hanno visto un impegno finanziario importante attraverso un contributo regionale. Per gli ultimi 800 metri sarà necessario attingere al bilancio comunale ed avere un ulteriore contributo dalla Pisana. Con il completamento dell'ultimo tratto, il comune di Orta avrà sostituito totalmente la linea di adduzione e le risorse destinate a questo tipo di interventi potranno essere dedicate alla manutenzione ed in alcuni casi alla sostituzione di tratti della linea di distribuzione. Per quanto riguarda la qualità delle acque, visti i tanti problemi che molti comuni del Viterbese hanno con i valori dell'arsenico, il sindaco premieri tranquillizza la popolazione, sostenendo che Dagli ultimi informali che ci ha comunicato l'ASL, noi abbiamo dei valori che sono solo sulla sorgente Baucche 10, il resto sono addirittura 2, 4 e 6 sulle altre sorgenti. Quindi per ancora tutelare i cittadini, noi pensavamo addirittura adesso, stiamo vedendo, di poterla miscelare quest'acqua, visto che ne abbiamo un'abbondanza in questo periodo, miscelarla per abbassare ancora di più questo valore, che comunque rientra nella norma. Tutti i cittadini che hanno dei disturbi e debbono nutrirsi attraverso dei cibi aproteici possono richiedere al comune il rimborso delle spese sostenute nei mesi di gennaio e febbraio 2010. Il rimborso è massimo relativo alla spesa di 100 euro mensili ed è possibile richiedere questo rimborso presso l'ufficio dei servizi sociali nel comune di Orde. Ovviamente c'è della documentazione da apportare in questo ufficio, poi potrete informarvi con maggior dettaglio presso l'ufficio dei servizi sociali di Orde. Parliamo adesso della risposta del sindaco che ci aveva promesso che avrebbe dato questa settimana alle dichiarazioni fatte dalla consigliere Picchiarelli ormai una quindicina di giorni fa. Gli argomenti che riguardavano queste risposte erano la risposta del sindaco sull'affidamento del comune e delle cause legali ad uno studio di avvocati e poi ovviamente sulla zona artigianale, sulla zona PIP. Non mi appassionano molto le polemiche sterili che non sono utili. Mi appassiona di più vedere queste cose, magari vedere realizzare nel nostro territorio cose ben più utili per i nostri cittadini. Comunque noi possiamo dire che già è una seconda volta che il consigliere Picchiarelli ci attacca dicendo che il sindaco dà incarichi al cognato. Noi non l'abbiamo smentito all'epoca, non lo smentiamo adesso perché quando noi diamo gli incarichi li diamo in base a delle scelte economiche, delle scelte professionali e di serietà. Perché? Perché noi abbiamo dato incarichi precedentemente, due anni fa, tre anni fa, dove ci sono costati rispetto a quello preventivato poi a consuntivo tre volte di più e quindi abbondantemente al di sopra dei 6.000 euro che il consigliere diceva e non abbiamo poi ottenuto grossi risultati. Noi qui ci appoggiamo a questo studio che è uno studio associato di avvocati, di circa 15 avvocati, dove ognuno è specializzato in un settore e da allora non abbiamo più perso una causa. Quindi siamo economici e abbiamo ottenuto risultati. Non vedo perché debba quindi smentire o dire cose non vere. D'altronde noi abbiamo fatto un'altra scelta. Sul nostro sito tutte le delibere vengono pubblicate e quindi tutti i cittadini le possono vere, non abbiamo nulla da nascondere. Massima trasparenza a tutto. Per quanto riguarda la zona PIP, la zona PIP è stata inaugurata a maggio 2009, ma da maggio 2009 ad oggi, gennaio 2011, è passato un anno e mezzo. In questo anno e mezzo noi abbiamo predisposto il bando, pubblicato il bando, accolto le domande di adesione a tutti coloro i quali erano intenzionati per l'acquisto di quest'area, quindi pubblicata la catatoria, riviste le opposizioni di qualcuno sul punteggio, pubblicato definitivamente, successivamente fatti gli atti di compravendita, quindi gli atti notarili tramite il segretario comunale e le relative trascrizioni che hanno comportato comunque un tempo molto lungo. Successivamente i proprietari hanno presentato i progetti. I progetti sono stati per buona parte visionati ed approvati sia dalla regione che dalla sovrintendenza. Un permesso sta a costruire, è già stato rilasciato, un altro sta per essere rilasciato a qualche giorno di distanza e per ben 13 manca un ultimo passaggio che è quello del vincolo etrogeologico e sono quindi pronti a partire. Sembra poco, ma in realtà abbiamo fatto tantissimo. Quest'anno, entro la primavera, l'estate, credo che possano partire tranquillamente. Io credo che chi segue un attimo la burocrazia, noi abbiamo detto velocemente questi passaggi, ma in realtà questi passaggi sono lunghissimi e come amministrazione noi abbiamo dato un percorso preferenziale proprio al PIP perché abbiamo intenzione di movimentare questa area e creare magari lavoro e occupazione soprattutto nel nostro territorio. Nel nostro territorio le operazioni di controllo della stazione dei Carabinieri hanno portato all'espulsione di due cittadini extracomunitari che da due anni dovevano lasciare il nostro paese. Si tratta di un salvadoregno e un pakistano presenti sul nostro territorio in modo, come già detto, non conforme alle leggi. Nei loro confronti era già stato emesso un decreto di espulsione che imponeva di lasciare il territorio nazionale, decreto che due non hanno rispettato. Sono ovviamente stati tratti in arresto e ovviamente è stata avviata la procedura per l'espulsione. Parliamo adesso del Palazzetto dello Sport di Orte, un lavoro questo che era iniziato nel mese di settembre, dovevano essere tempi più brevi per la consegna, ma poi, come sentiremo tra poco, modifiche progettuali, praticamente un rifacimento totale della struttura, hanno allungato i tempi di consegna. La preoccupazione del presidente del Volley Club, Aldo Madonna, aveva assortito una piccola polemica attraverso la stampa che però sembra essersi placata. L'incontro che era stato chiesto dal sindaco con il presidente del Volley Club è avvenuto sabato mattina e noi ovviamente eravamo presenti e l'abbiamo documentato. Vediamo che cosa è successo. Beh, la vicenda di questa palestra si è protratta un po' più a lungo del previsto, ma d'altronde, come già parlando, avevamo anticipato al presidente Aldo Madonna, dal progetto originario che noi avevamo previsto, che era una semplice sostituzione dell'Ethernet, della copertura in Ethernet, perché il finanziamento era quello concesso alla Regione, poi è stato completamente stravolto. Siamo andati quindi a fare un nuovo progetto, quindi con tutto l'iteratorizzativo di questo nuovo progetto che ci ha portato via un bel po' di tempo, perché abbiamo dovuto fare una conferenza di servizi, quindi i tempi della pubblica amministrazione purtroppo sono molto lunghi. Comunque, per quanto abbiamo potuto accelerare al massimo, poi ci si è messo di mezzo anche il tempo, che questo inverno è stato abbastanza piovoso, che non ci ha poi permesso di poter lavorare in maniera veloce. Io credo che per il prossimo anno, a settembre, presidente, non dovremmo, parliamo al condizionale, non dovremmo avere grossi problemi, perché come vedete la struttura, ormai la fondazione è completa, stiamo aspettando che entro la fine del mese arrivano tutte le parabole, gli archi in legno, e quindi inizieremo proprio la vera e propria palestra di copertura. Ecco, un campionato fuori orte, insomma, presentate le difficoltà, un po' era l'auspicio quello che almeno la prossima stagione si potesse giocare qui? Ma, indubbiamente, sappiamo tutti le problematiche di quando si fa un'opera di questa entità. Non parlo soltanto a nome mio, ma anche credo così, mi prendo un po' l'autorità di parlare anche a nome delle altre realtà sportive, che tanto danno alla nostra popolazione. Ritengo che i tempi sicuramente sono stati allungati per motivi logistici, organizzativi, per un cambiamento di progetto. Ritengo che avremo sicuramente, anche avendo un pochino visto il progetto, una delle migliori strutture della nostra provincia, sarà forse, penso, un fiero all'occhiello, però in effetti, da un punto di vista organizzativo, sportivo, dovremo avere, se è possibile, un pochino meglio le date, perché noi stiamo già facendo campagna promozionale per la prossima stagione, che sarebbe la stagione 2011-2012, che è vero che inizia a settembre come attività di Coppa Italia, però ad agosto comincia la preparazione. Allora io cercherei di interpretare questo concetto, cioè siamo già in movimenti organizzativi, e è fondamentale sapere se magari subito dopo l'estate si può già utilizzare l'impianto, non bisogna saperlo oggi, bisognerebbe saperlo almeno verso Pasqua, perché altrimenti di nuovo ci troviamo in difficoltà. Un esempio stupido, la nostra sala Vesi attualmente è sotto gli spogliatori del calcio, dello stadio, scusatemi, e quindi quella va risistemata, perché con tutti i nostri difetti però abbiamo anche noi un piccolo fiore all'occhiello, siamo l'unica società della nostra regione che si è potuta permettere una sala Vesi, che comunque poi ad Orte hanno utilizzato tutte le realtà sportive che ce l'hanno chiesto, gratuitamente come sempre. Quindi diciamo sì, nonostante questo fiore all'occhiello che sicuramente sarà realizzato e ben si vede dalle dimensioni e dall'organizzazione, il desiderio proprio per venirci un po' in incontro è quello di sapere non il giorno, non la settimana, non il mese esatto, ma almeno il periodo perché è fondamentale, in quanto la preparazione agonistica inizia con la preparazione atletica e quindi con la sala Vesi. Non vi nascondo che sicuramente più siamo organizzati è meglio è. Questo non significa che comunque non ci adatteremo per tutte le esigenze possibili e immaginabili, però ritengo che ormai il grosso, così pur non essendo un amministratore, il grosso è fatto, penso che sia l'assessore che il sindaco stanno molto sopra a questi imprenditori che gestiscono poi questo grosso lavoro e ritengo che in un po' di buona volontà e stanno continuando a essere presenti, anche perché io poi ogni volta che passo trovo spesso il sindaco e l'assessore Bobboni in questo impianto e quindi vedo che stanno seguendo i lavori. Quindi mi auguro che si possa realizzare la possibilità di dare, di fornire alla popolazione e alla realtà che fanno di uno sport, un loro concetto importante di promozione e via di seguito in tempi un pochino anticipati rispetto proprio all'inizio della prossima stagione il che significa che secondo me già a luglio potrebbe essere una data che consente comunque di poterci muovere sapendolo magari verso dopo Pasqua, sapendo che dopo Pasqua sappiamo che a luglio possiamo entrare e dare una mano, organizzarci, dividerci, lavorare eccetera sicuramente potremmo affrontare la prossima stagione in una situazione completamente diversa. Risposta a quanto detto, poi aggiungo una domanda. Una volta finita la struttura ci sarà bisogno di un collaudo che può prolungare i tempi oppure no? Oppure può essere magari fatto già in modo più accelerato anche l'eventuale collaudo? Non so se è previsto oppure no. Ma il collaudo non allunga i tempi perché il collaudo sicuramente va fatto su tutte le opere sia da un punto di vista impiantistico sia da un punto di vista strutturale però non è il collaudo che diciamo allunga i tempi. Il problema praticamente è che noi stiamo costruendo una nuova palestra e qui una nuova palestra perché come vedete è stata proprio demolita, rasa al suolo e fatta e oltre tutti i costi della demolizione, dello smaltimento dell'Eternet che sono stati enormi dobbiamo quindi ritirarla su con enormi problemi economici perché il vero problema poi è il problema economico di riuscire a reperire adesso in sede di bilancio magari le risorse che sono necessarie per la completa ultimazione. Sì, diciamo che con la struttura si completerà però mancheranno ancora dei piccoli accessori magari le tribune possono essere fatte successivamente perché era previsto il mantenimento di quelle che c'erano però viste le dimensioni sono state abbattute, sono state demolite quindi bisognerà trovare risorse per completarle anche in questo senso. Sentiamo al Sessore Poboni. A questo credo si riferisse il Sindaco quando diceva che alla fine nei medianti del bilancio cercheremo di trovare le risorse necessarie per completare l'opera insomma questa è una delle cose, le vecchie tribune purtroppo visto la traslazione di circa due metri della struttura verso valle perché sarebbero cadute al centro del campo per cui inevitabilmente sono state abbattute e verranno ricostruite nuove. Io colgo l'occasione molto velocemente per manifestare soddisfazione rispetto alle posizioni che questa mattina prendiamo qua sia noi come amministrazione che il Presidente Aldo Madonna come maggior fruitore dell'impianto che stiamo costruendo e dicendo che il maggior fruitore non voglio assolutamente mettere in evidenza niente di negativo ma solo che di positivo, lui governa una società sportiva che ad Orte è presente da sempre diciamo, è presente da sempre peraltro a livelli diciamo così costantemente medio-alti per cui credo che meriti un'attenzione maggiore rispetto a chi fa sport con altri obiettivi e con altre finalità, ancorché anche lui ha diritto ad utilizzare i spazi pubblici. Era apparsa la settimana scorsa sui giornali un articolo che onestamente io glielo ho detto ad Aldo in un confronto che abbiamo fatto sabato mattina non era piaciuto perché non tanto per la critica perché la critica è sempre ben accetta quando in qualche modo tende a riposizionare le cose su un binario di giustezza, diciamo, di quella che secondo me può essere la mia giustezza quanto per il fatto che, io ci tengo questo a precisarlo approfitto del fatto di stare qui con Aldo così magari, come dire, può confermarlo o meno noi nella realizzazione di questa struttura abbiamo mantenuto con loro un contatto tra virgolette nel senso del lato del termine privilegiato perché? Per quello che dicevo prima essendo loro quelli che meglio di tutti conoscono le esigenze che poi un impianto perché all'interno dell'impianto utilizzano gli spazi per il maggior tempo possibile a quel punto io credo che ci è sembrato giusto lui lo chiedeva, noi abbiamo reputato che fosse giusto e siamo confrontati dall'inizio decidemmo insieme come più o meno cercare di utilizzare anche gli spazi esterni ho letto con un pochino di rammarico quello che il Presidente diceva quando in qualche modo ci diceva che avremmo forse utilizzato meglio le risorse per carità, questo sicuramente tutto è perfettibile però quello che portavamo avanti credevo che l'avessimo concordato ma come dire, in un'opera di questo genere credo che spazio per le polemiche ce ne debba essere poco, anzi forse se fosse niente sarebbe meglio mentre invece apprezzo moltissimo stamattina il fatto che si dica con chiarezza quali sono le esigenze e come dire, si pretenda anche che vengono da dare le risposte per poter programmare in futuro l'utilizzazione dell'impianto noi se qualche volta altro non siamo stati precisi io te lo ho detto e continuo a dire è solo perché non conosciamo effettivamente non siamo in grado di dire effettivamente la data però l'obiettivo è certo così come ci siamo impegnati a fondo affinché entro il 31 dicembre passato se potessero finire i lavori cosa che purtroppo non è successa per quello che diceva prima Dino per settembre noi lo sappiamo che significa tenere un'attività del genere fuori da orte per chi la gestisce è un dispendio di risorse che secondo me sarebbero sicuramente utilizzate all'interno e quindi migliorando anche il livello già alto di qualità del servizio perché per certi aspetti comunque è un servizio perché non c'è solo la prima squadra ma ci sono tutta una miriade di altre squadre che ci consentono di vedere i nostri ragazzi tanto movimento giovanile e i nostri ragazzi impegnati qua piuttosto che da altre parti che sono meno salutari io dico quindi di questo non finiremo mai di ringraziare Aldo noi ci siamo faremo il nostro impegno fino in fondo con la speranza che i tempi che sollecitiamo sempre più in modo pressante possano essere più soddisfacenti per il Wally Club di Orte che per noi è continuo ad essere un fior all'occhiello non lo dico per ruffianeria ma perché credo dicendo questo interpretate veramente quella che è l'idea della maggior parte degli ortani che seguono lo sport Aldo insomma mi sembra che gli elementi sono stati fatti sì sì no assolutamente mi riferisco ma non fra me e Antonio e il sindaco c'è sempre stata una buona armonia alcune idee diverse possono essere normale perché altrimenti però devo dire la verità siamo onestamente siamo su una buona lunghezza d'onda l'osservazione che facevo su un articolo era un pochino legato alla tempistica perché in effetti in effetti la problematica che noi abbiamo avuto all'inizio a maggio ci demmo da fare per smontare la sala e si sembrava che i lavori dovesse cominciare a maggio invece purtroppo l'appalto è stato dato a luglio come giustamente diceva il sindaco e Antonio ci sono delle tempistiche quindi una realtà si aspettava già a settembre di poterlo utilizzare o quantomeno di poterci fare la bocca e quindi diciamo sì la tempistica ci ha un po' buscherato ci ha un po' rallentato ci ha messo un pochino in difficoltà però questo non è stata non è un 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 ostacolo anzi io sono abbastanza contento di questa manifestazione di questa mattina di questo colloquio perché testimonia la presenza dei nostri amministratori sulle opere pubbliche ripeto che ho visto frequentemente in queste ultime settimane la presenza del nostro sindaco e dell'assessore Antonio presso questo impianto non solo e questo testimonia che in effetti la preoccupazione anche loro di una realizzazione in tempi non velocissima ma sicuramente idonei che consentono in ogni caso alle realtà di poter promuovere la loro attività almeno la prossima stagione quindi diciamo sì il vero problema era che il mio articolo era il ritardo nella gestione della struttura e quindi che comunque chi sta da una parte chi sta dall'altra se c'è un minimo di interesse politico politico sportivo si trovano sempre le soluzioni tanto è vero che tanto è vero che io non posso fare altro che ringraziare di questa disponibilità ho notato questa grossa voglia di completare quest'opera che è fondamentale sentire gli nostri amministratori che comunque ci mettono anima e cuore oltre che probabilmente tanto tempo che tolgono la famiglia e via di seguito a me questo è un piacere che ha avuto la sensazione da maggio fino a febbraio sono già 8 mesi che ha avuto la sensazione che non ci fosse proprio questo modus di essere presenti invece in queste ultime settimane hanno dato proprio una presenza quasi quotidiana e questo mi ha fatto piacere sentendo anche le parole dell'assessore Antonio e del sindaco Dino mi fa piacere e mi auguro che possano realizzare e metterci in condizioni a tutte le realtà di poter avere uno spazio fruibile nel mese di luglio in modo tale che poi agosto si sistemano le cose e a settembre si possa cominciare questo è il mio augurio che faccio a loro lo faccio anche a noi e a tutte le altre realtà sportive perché indubbiamente diventa importante pensare perché anche se l'impianto dovesse essere consegnato a settembre i tempi ci sono però questo pregiudica molte cose nella preparazione velocemente una battuta velocemente per chiudere io volevo semplicemente dire che come dire ci scusiamo non con Aldo ma con tutti quelli che in qualche modo occupavano questi spazi per la lungaggine che abbiamo spiegato bene da che cosa era dovuta però io credo che alla fine della partita anche le difficoltà che abbiamo dovuto sopportare i tempi un po' più lunghi di quelli che avevamo pensato saranno compensati dalla riconsegna a tutta la cittadinanza a tutti quelli che ne fruiranno di una struttura che non sarà più solamente rinnovata nel tetto nelle finestre dove prima piovevamo che sarà un'altra cosa abbiamo anche la presunzione di poter dire che se riusciamo a concretizzare fino in fondo quello che ci abbiamo un po' in testa come dire reperendo anche magari finanziamenti attraverso regionali dei quali peraltro ci ha informato tempestivamente il Presidente con una mail dei quali stiamo cercando di attingere come dire vorremmo completare un impianto che potesse dare tranquillità anche per il futuro nel senso che semmai questa città possa avere una squadra di pallavolo in serie A una squadra di calcetto a livelli più alti di quelli che l'impianto c'è non debba essere questo che condiziona invece il freno in quel senso si concluderà tra qualche giorno la raccolta intrapresa dalle confraternite per restaurare il tetto della chiesa dell'ospedale ma ovviamente chi vorrà continuare a contribuire potrà farlo rivolgendosi direttamente ai responsabili delle confraternite che ci hanno fatto sapere che intorno al mese di maggio dovrebbero iniziare i lavori quindi se siete interessati a partecipare a questa opera di recupero di un bene della collettività ortana potete farlo rivolgendovi alle confraternite vediamo allora la programmazione del Cineteatro Alberini per questa settimana il film quello di Antonio Albanese qualunquemente leader del partito Antonio Albanese del partito del PDP poste di spettacolo alle 21.45 per sabato domenica alle 15.30 a 17.45 e 21.30 a lunedì martedì e mercoledì alle 21.30 mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri bisognosi una beata miglia io non faccio prigionieri tu mi voti ti trovo un lavoro e ti sistemo tu non mi voti in tua cura ti attutava miglia io sono stato a primi neadicione e ho scoperto cos'è che muove l'economia di una regione progredita come la Romagna o pelo non costano niente è tutto un pezzo da getto la sua lunghe la politica che scende tra la gente c'è una manifestazione per i bambini da 3 agli 11 anni organizzata da l'Aspi di Orte Scalo è uno zecchino d'oro quindi tutti i bambini che volessero partecipare possono rivolgersi all'Aspi ricordiamo sempre in conclusione del nostro appuntamento settimanale che potrete rivedere TG Magazine sul sito di Teleradio Orte che la scorsa settimana ha avuto un problema per quanto riguarda il server ma è stato prontamente risolto quindi per tutta la prossima settimana sarà visibile questa edizione del TG Magazine inoltre è visibile anche sul sito di Newtusha e quindi potrete seguirci anche attraverso il nostro partner del giornale online per questa settimana è tutto appuntamento come sempre a sabato prossimo arrivederci a tutti a sabato prossimo a sabato prossimo Grazie a tutti.